Ciao ragazze, nuovo video, oggi spacchettamento Allora, avremo due arrivi che sono arrivati ieri Io poi ieri non ho avuto modo di girare un video perché il tempo era indecente quindi non c'era abbastanza luce Allora, l'azienda è questa Si vede? Crilla In pratica è un'azienda che produce, ve lo faccio vedere anche qua Gioielli, realizza, produce gioielli in tessuto tutto ovviamente made in Italy e tutto ovviamente fatto esclusivamente da loro quindi sia la creazione che la produzione, ecco qua Allora, l'azienda gentilmente mi ha inviato questi due pacchettini sono due bracciali che oggi aprirò insieme a voi Allora, il primo, eccolo qui è questo Allora, è un bracciale in tessuto Faccio vedere anche l'apertura Allora, eccolo qua Questo appartiene alla collezione Promise Allora, se voi andate sul sito trovate un'infinità di bracciali ognuno con ovviamente un nome in base alla descrizione comunque alla collezione a cui appartiene Tutti quanti sono realizzati comunque in tessuto ci sono disegni ovviamente diversi per esempio io ho preso questo e Promise poi ce n'è un altro che vi mostro questo per esempio ha anche degli inserti in argento non so se si vede ora così sì c'è questo c'è il bottoncino ovviamente in argento ecco, forse così si vede meglio e poi ovviamente la lunghezza ci sono comunque i fori per poterlo chiudere e i bracciali ovviamente hanno quindi questi disegni astratti questo è quello dell'infinito questo è molto, diciamo, astratto quindi molto particolare ve lo mostro subito allora, potete scegliere tra un'infinità di colori io ho scelto i colori un po' più chiari perché, come si può vedere io verso sempre di scuro e poi in vista comunque della stagione primaverile, comunque estiva volevo scegliere comunque qualcosa di più chiaro quindi comunque di più, diciamo, non per forza ecco, un po' più adattabile a qualunque look ecco qua, questo è il primo come si può vedere ci sono due giri si fanno due giri al braccio questo è il risultato, è bellissimo questo è un bel color cipria non si nota tanto in un video sembra bianco ma è un bellissimo color cipria e quindi si aggancia qui e quindi, e questo è il risultato allora, quindi questo è il primo bracciale vi ricordo a partire alla collezione Promise ed ha un prezzo di, me lo sono segnato di 34 euro questo qua poi ce n'è un altro arrivo ovviamente tutto in questa bella scatolina che vi ho fatto vedere prima questo qua invece appartiene alla collezione Oriente e vi faccio vedere poi capirete anche il perché eccola qua ha uno stile proprio arabbeggiante quindi è stupenda io ieri sera quando l'ho vista che perché poi ho sbirciato prima di fare, di girare il video sono rimasta veramente incantata allora, i disegni che voi vedete sul sito sono uguali identici però ovviamente nel momento in cui vi arrivo a casa il bracciale è molto molto più bello io l'ho preso in color oro questo qua sempre della collezione Oriente ha sempre questo pulsante non pulsantino questo bottoncino in argento come si può vedere ovviamente ci sono tante buchine per ovviamente essere adattato a qualunque tipo di braccio e quindi questo è il risultato bello è proprio bello molto molto bello molto delicato comunque io penso allora voi sapete che io comunque amo i bijoux li considero come un vero e proprio accessorio alla fine come le scarpe e le borse perché ecco con un maglioncino nero un bracciale del genere comunque si cambia totalmente il look da semplice è comunque un po' anonimo diventa comunque qualcosa di molto elegante prezioso anche su di un tubino nero può comunque modificarla e renderci comunque particolare e ovviamente distinguerci tra le altre perché comunque si vede la qualità del prodotto e si vede comunque la differenza che fa il prodotto made in Italy da un prodotto da dubbia provenienza chiamiamole così quindi si nota perfettamente quindi questo è il bracciale la qualità comunque e la caratteristica poi volevo farvi vedere anche all'interno se si riesce nell'interno il bracciale è quasi felpato quindi diciamo non crea sfregamento quindi non irrita il braccio se dovesse tenerlo per tanto tempo sul polso quindi diciamo è molto molto delicato molto morbido come tessuto allora questo appartiene alla collezione abbiamo detto Oriente da un prezzo di 22 euro questo qua invece appartiene alla collezione Promise ed ha un prezzo di 34 euro quindi diciamo sono anche prezzi accessibili ragazzi ovviamente nel video poi in basso troverete il link del sito il link della pagina facebook poi ovviamente ci sarà anche un post sul blog con tutti gli outfit e le foto di questi magnifici bracciali io ringrazio infinitamente l'azienda perché comunque mi ha dato la possibilità mi ha dato la fiducia di provare comunque questi due tipi di bracciali ve li rimostro un'altra volta sono studenti sono bellissimi e quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto ci siamo fatti un po' di compagnia ringrazio ancora l'azienda ringrazio tutti voi che mi seguite vi mando un bacio a presto alla prossima ciao ciao ciao